Grande ed ulteriore apertura rispetto al passato verso gli operatori culturali. Sarà questa la mission che investirà il Marte Mediateca di Cava dei Tirreni a partire dai prossimi mesi e che avrà come suo principale artefice Filippo Trotta, attuale presidente della Fondazione Alfonso Gatto, investito della carica di amministratore delegato. Nella mattinata di ieri, presso il Palazzo di Città di Cava dei Tirreni, la società Marte SRL ha presentato ufficialmente alla stampa il nuovo capo del management aziendale che avrà il compito di proseguire nel processo di consolidamento della leadership del Marte nel panorama culturale ed imprenditoriale campano. Presente al tavolo della conferenza, il sindaco Marco Galdi, che ha definito coraggiosa la scelta dell'amministrazione circa l'apertura del Marte Mediateca. Se non ci fossimo affidato ai privati, ha dichiarato Galdi, probabilmente la Mediateca sarebbe ancora chiusa. È stata una scelta coraggiosa che peraltro è stata coronata da un risultato notevole. Nelle ultime battute, il sindaco Galdi ha espresso piena ammirazione per l'operato di Giovanni De Michele alla guida del Marte prima di Filippo Trotta. Considero la Mediateca Marte come un fiore all'occhiello della politica culturale che svolgiamo sul nostro territorio, per cui non mi resta che dare il mio in bocca al lupo al nuovo amministratore delegato. In conclusione, l'intervento di Filippo Trotta, pronta a fare della sua esperienza imprenditoriale punto di forza per la promozione e l'innovazione del Marte. Vogliamo costruire uno spazio che sia il centro dell'attività culturale cavese, ha dichiarato Trotta, un punto di riferimento dove far confluire centinaia di giovani provenienti da tutta Europa, un laboratorio di innovazione con una forte identità territoriale. Il principale obiettivo sarà quello di dare un segno di grande apertura e disponibilità al territorio, al fine di rendere il Marte il luogo d'eccellenza dedicato all'innovazione. In cantiere, la realizzazione di una biblioteca sull'innovazione, da sociale al marketing, dalla comunicazione al giornalismo all'arte, un polo unico e di riferimento in campagna, un Marte 2.0. Che valore assume per lei questa nomina da amministratore delegato del Marte? Beh, insomma, un grande onore innanzitutto, un grande impegno e soprattutto tanta voglia di lavorare bene. Io vengo da un ambito che è il mondo delle onlus, delle fondazioni. La Mediateca è una risorsa importantissima non solo della città di Cava, innanzitutto della città di Cava, ma dell'intera regione Campania. Un grande contenitore, un grande connettore di intelligenze. Quindi ecco, un grande onore e naturalmente un bellissimo progetto. Bisogna lavorarci tranquillamente. Dicevamo in conferenza una Mediateca 2.0. Sì, sì, insomma, una Mediateca 2.0 pur mantenendo quelle che sono state le cose ottime ed importanti che sono state fatte sinora. Giusto un nuovo indirizzo, un po' più centrato e focalizzato sull'innovazione. Qualche ritocco, qualche impegno diverso, ma tentiamo in qualche modo di, perché no, anche rinnovare e coinvolgere un nuovo pubblico. Essendo lei presidente anche della Fondazione Alfonso Gatto, c'è ovviamente la possibilità di una sinergia con il Marte? Sì, perché no, vedremo, vedremo, insomma, ecco, non c'è nessun problema, noi possiamo tranquillamente fare, insomma, vediamo, ecco, ci proviamo. E le sue prospettive? Le mie prospettive innanzitutto è far lavorare bene, lavorare bene i ragazzi che i nostri collaboratori. Dobbiamo creare qualcosa di importante, un punto di riferimento in Regione Campania. Bisogna crescere, lo faremo. E soprattutto una cosa importante, e lo ripeto, bisogna lavorare molto, con grande passione, è stato fatto tantissimo fino adesso, anzi colgo l'occasione per ringraziare Giovanni Di Michele, l'amministratore delegato che c'è stato prima di me. La parola d'ordine sarà il lavoro, l'impegno, il lavoro e la passione. La parola d'ordine sarà il lavoro, l'impegno, il lavoro e l'impegno.